allora si ritorna in diretta in realtà ho fatto un video precedente cosa è successo? che ho combinato un casino per togliere la vibrazione perché continuavano ad arrivare i miei messaggi ovviamente l'audio non ne beneficiava mi scusavo per il ritardo ho avuto un bel po' di problemi avevo salutato dalle persone che spero ritornino a seguire comunque si parlava appunto di femminismo ora ne riparlerò e ricomincio da capo praticamente allora che cos'è il femminismo? perché ne sto riparlando oggi? perché? perché continua a non essere compreso e a me sta molto a cuore che venga compreso e quindi allora il femminismo è un movimento non è il contrario del maschilismo il maschilismo è gli uomini sono più figli delle donne sono più potenti sono più eccetera eccetera sono più bravi sono più belli sono più intelligenti sono quello che volete sono più il femminismo è un movimento è un movimento che nasce per avere pari diritti con gli uomini si divide in varie tranche perché ovviamente è un movimento che percorre gli anni si evolve si evolve nel transfeminismo per la difesa dei diritti delle persone trans perché anche le donne trans sono donne e ora come ora è un femminismo intersezionale cosa vuol dire intersezionale? vuol dire che il femminismo di oggi non può e non deve in realtà andare avanti non può fare le sue lotte senza abbracciare altre lotte che sono magari quella dell'ambiente quelle per le persone trans ma anche quelle per le persone lgbtqia plus sono insomma c'è un ci sono un sacco di lotte che vanno abbracciate c'è la appunto ambiente persone mi scusate mi sono persa lgbtqia plus lavoro ci sono veramente tante lotte che vanno abbracciate perché perché ogni oppresso in realtà non si può non si possono dividere le oppressioni insomma quella del femminismo è una battaglia contro l'oppressione l'oppressione delle donne e l'oppressione delle donne anche se sulla carta è scritto che noi siamo pari diritti pari dignità eccetera parlo ovviamente della nostra nazione e di nazioni come la nostra che hanno effettivamente una parità dei diritti perché se parliamo di nazioni che non ce le hanno ovviamente si va a toccare altri temi comunque rimaniamo sul nostro come dicevo appunto sulla carta abbiamo parietti in realtà non è così basti pensare al gap sul lavoro le donne prendono meno a parità di mansione non è un dato che mi sono inventata è un dato statistico potete ritrovarlo tranquillamente le donne hanno un tasso di disoccupazione più alto se vediamo perché vengono relegate a ruoli di solito di cura cura degli anziani cura dei bambini guarda caso ruoli quasi sempre non pagati quindi perché appunto diritti solo sulla carta posso parlarvi anche di pochi anni fa quando a studiare si mandavano i maschi e non le femmine e questa è l'epoca dei miei genitori ecco perché il femminismo si evolve perché ogni epoca ha i suoi problemi peculiari nella nostra per esempio c'è un problema in realtà che trascorre i secoli proprio ma di cui ora si può parlare ed è il femminicidio la gente non ama sentire parlare di femminicidio me ne sono accorta perché dice che è una discriminazione in realtà queste persone non riescono a capire che femminicidio non è l'omicidio di una donna se io esco domani e uno mi rapina e mi spara in fronte il mio non è un femminicidio abbiamo anche la connessione ah benissimo ritornata quindi femminicidio ti sta dicendo il perché non il come cioè non il chi ma il perché perché non c'è il maschicidio semplicemente semplicemente perché i maschi uccisi in quanto maschi uomini uccisi in quanto uomini che è una parola un po' meglio diciamo così è una parola migliore sono pochissimi non è una questione sistemica non è una questione culturale perché si è cognato il termine femminicidio perché si aveva bisogno di cognare qualcosa che desse voce a un fenomeno di uomini uccisi dalle fidanzate ex fidanzate ex mogli in quanto uomini ce ne sono veramente pochi la maggior parte delle violenze sugli uomini tra le altre cose avviene da parte di altri uomini non dico che non ce ne sia nessuna ma dico che non c'è bisogno di coniare un termine perché non è un fenomeno non è un fenomeno sistemico è una cosa orribile a chiunque succede è una cosa orribile ma se c'è stato bisogno di coniare un termine è perché bisognava far capire che culturalmente qualcosa non andava perché il femminicidio è qualcosa di culturale è il tu donna non vali quanto un uomo non me ne frega niente di che cosa dice la costituzione tu non vali come un uomo sei isterica parola tra l'altro cognata da l'utero sei andata a vedere l'etimologia di isterica tra l'altro non si dice quasi mai un uomo sei isterico si dice alle donne perché le donne sono preda dei loro umori dei loro ciclo del loro eccetera 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 sono sempre preda di emozioni che poi è effettivamente vero che le donne hanno una consapevolezza maggiore delle proprie emozioni e tendono a esprimerle di più però tendono ad esprimere di più quelle di desolazione disperazione frustrazione anche gioia felicità amore per carità di dio mentre gli uomini tendono di più a esprimere sensazioni come rabbia perché perché proprio per la questione della nostra cultura un uomo che piange non è la connessione oggi quindi per questo non può essere paragonato al maschilismo e al femminismo perché il femminismo non si propone la supremazia delle donne vuole la parità ma la parità effettiva non quella sulla carta e di qui si torna a parlare di violenza di genere la violenza di genere è terrificante nel nostro paese non solo nel nostro paese per carità di dio ma in un paese che dice che le donne sono uguali agli uomini a livello di diritti muoiono un bel po' più di donne rispetto agli uomini in quanto donne ribadisco non per rapina non per in quanto donne le donne subiscono più violenze più stupri più molestie e spesso vengono minimizzate queste cose vengono minimizzate perché pensiamo al catcalling il catcalling è quando per strada c'è il solito simpaticone che ti dice oh bella per molti è considerato un complimento io fortunatamente sono abitovata a ben altri complimenti ma anche quello che ti scrive in chat che decide di poterti chiamare in un certo modo perché sei donna tesoro amoruccio perché chi ti ha dato il permesso perché entri in confidenza con me in questa maniera non ci conosciamo perché senza contare quando ti arrivano membri maschili quanti uomini capita molto pochi a molte donne invece capita non è piacevole c'è una risposta che io do sempre quando io cerco di non scandalizzarmi ecco cerco di non fare la parte della vittima e quindi dico ho visto di meglio ma quella in realtà è una molestia io sto semplicemente rispondendo a una molestia con una denigrazione che però si meritano tutti perché insomma sei stato tu a provocare e ti becchi la mia rabbia ci sono persone che si sentono peggio o non che io mi senta bene però c'è gente che non riesce a reagire gente addirittura oh mio dio poi questo è capitato anche a me e vabbè ma tu stai mezza sgotta se ti mando il pene è una cosa normale no assolutamente no io sono nei limiti della decenza tu no per esempio e soprattutto manco se fossi nuda tu mi devi io penso a una donna per esempio che non sta bene esce nuda in strada puoi diritto di toccarla assolutamente no io mi ricordo di quando ci fu quella ragazza di Bologna che appunto forse per scommessa ora non ricordo andava nuda in giro per strada veniva approcciata e la cosa più allucinante è che in tutto il 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 suo percorso c'era il video ovviamente tutti che commentavano ma guarda questa se la va a cercare a guarda questa cerca diciamo sesso facile come se avesse bisogno di girare nuda una persona per trovare del sesso insomma c'erano state questo questo tipo di oltre alle classiche ai classici insulti che si fanno solo per le donne perché esistono solo per le donne e non mi venite a dire che gigolo è un insulto per gli uomini perché non è esattamente la stessa cosa quindi evitiamo nessuno si domandava se sta ragazza stesse bene mi ricordo feci un un proprio non mi ricordo se proprio un eh si feci un articolo dove mettevo tutti questi commenti e vi posso garantire cioè nel senso li commentavo ma soprattutto mi chiedevo ma perché nessuno chiede se sta ragazza sta bene perché io la prima cosa che penso se una ragazza gira nuda se sta bene cioè chiamo un'ambulanza e invece no non non successe così ma succede anche sugli stupri se l'è cercata era ubriaca aveva la gonna corta lunga ormai ecco perché ancora oggi io vi parlo di violenza di genere perché ancora oggi per esempio ho risposto a un annuncio di lavoro a quello che pensavo fosse un annuncio di lavoro poi era network marketing ma vabbè è pur sempre lavoro però non è il lavoro che mi lantavano insomma però non fa niente e il tizio che mi risponde ah sei una tettona presuntuosa quando io gli ho detto di no perché? perché gli avevo detto che comunque avevo una laurea in altro avrei preferito fare altro tutto guà per questo sono una tettona presuntuosa perché non mi interessava il network marketing e non volevo far parte del suo gruppo perché ha cominciato a convincermi con le solite tecniche però guardate dove sono stata colpita sul fisico non sulla mia intelligenza o su altro cioè poteva darmi della presuntuosa appunto se pensava che semplicemente perché ho una laurea allora mi sento sta gran figa cosa non è così vi posso assicurare però lui ha scelto di darmi della tettona questa è di ieri ieri e l'altro ieri tra l'altro ieri e l'altro ieri perché? perché le sue collaboratrici poi lui lavora anche sotto una donna tra l'altro ho scoperto che ho contattato personalmente per farle insomma per dirle che appunto doveva stare più attenta ai suoi collaboratori e che avrei potuto denunciare questa persona cosa che ogni tanto mi balena ancora di fare ho due mesi per pensarci comunque mi ha detto avrò avuto una brutta giornata ha detto ascolta io ho una depressione seria e non vado in giro a insultare le persone punto secondo questa persona mi ha chiesto scusa quando l'ho minacciato di denuncia dopo che sono andata appunto a parlare con quest'altra persona che è il suo capo la sua boss mi chiede scusa su un altro social perché è andato a cercarmi su tutti i social cioè è pure la persecuzione e poi mi manda un messaggio dicendomi ancora vai da chi ti pare sei una tettona presuntosa io gli screenshot cosa ci dice questo ha un uomo tettono ha un uomo ma hanno mai detto paccone presuntoso ma no ma manco ma manco a Rocco si freni però è così ecco perché ne sto parlando uno perché ho avuto un'altra discussione sul femminicidio e sono stanca ribadisco una questione culturale non vengono ammazzati uomini ogni tre giorni da donne vengono ammazzate donne ogni tre giorni da uomini e ribadisco che ogni omicidio è grave femminicidio non è la gravità femminicidio ti sta dicendo guarda che questa cosa sta succedendo per questo fenomeno culturale che facciamo? c'è un fenomeno culturale inverso? per fortuna degli uomini no poi se sembra una gara ogni volta io sarei ben felice di non di non dovermi ascoltare i bollettini delle donne morte ogni 8 marzo però li ascolto ogni 25 novembre e poi ascolto le notizie ovviamente quindi sarei ben felice dovreste essere felici voi nel senso non siete voi le vittime però e ribadisco sicuramente ci sarà qualche uomo vittima di violenza dalla propria ex eccetera eccetera ma non è la norma non è sistemico non è culturale e nulla quindi è per questo che oggi ho parlato di nuovo di questi temi perché a quanto pare parlarne una due tre quattro dieci volte non serve continuiamo a parlarne perché evidentemente bisogna continuare bisogna tenerli vivi e bisogna tener viva la lotta buona serata di questo non serve di questo non serve di questo non serve Grazie a tutti.